ovviamente invito visto che ci tengo molto avvi poi dirò sì mi dispiace grazie di supportare il cavale ma in realtà godo come un riccio che hai perso ve lo dico però ecco ti invito quantomeno a prendere il mio mazzo prima del mio oggi ragazzi miei sono buono oggi gioco solamente mazzi di merda tra cui il doppio secret quindi aspettiamo che ferdi prende il suo mazzo per poter andare in qualche maniera ad atterrirlo con questo mazzo vuoi che onestamente non so che cazzo di mazzo non mi ricordo dei due shaman quello che effettivamente è potrebbe essere il big spell signori e signori vi presento il big spell shaman il big spell shaman è un mazzo piuttosto colorito piuttosto caillardo che non credo riuscirà semplicemente a vincere la partita distruggerà l'avversario in maniera evidente con una sinergia forte all'interno del suo mazzo come quella del guardiato arcano ma anche del supplente stregato sì signori il shaman perfetto ferdi ti sta regalando praticamente il premio gold e te lo dico tranquillamente la vera domanda è vogliamo farvi il tic non credo che faremo il tic l'unica funzione ragione perché non c'è matti tra carcelari ragazzi qua non si vede e ma lo faccio a partiti timo distacchietto ma no che qua ragazzi purtroppo devo qua devo per forza attaccarlo perché altrimenti si fa la seconda aspetta dovrei far valutato perso e dd3 per c'è dd3 che non c'è esiste io lo vedo se non lo vedete non c'è sto veramente prontando di tenere il bacile di mano ma fan culo va non era male lo 06 perché rimaneva su bordo capito però sono un pochino disperato quanto pulpata e essere disperato non è proprio una cosa che a me fa tanto piacere ho delle commo molto forti e forse il mazzo però chiaramente ma se non fa il valutera è perché vede che c'è un assato che già l'omano però è e no poi lo bando però what cristo di dio dai va bene attenzione rassa lo cazzo grande rassa il mazzo non ha modo per curarsi alcuno a parte con la fire heart cazzo grosso vado vado a 4 vado e non ho modo di curarvi non ho tanto non è buono sto fatto ci vediamo dopo la lezione non è buono sto fatto non è buono sto fatto non so se fare inervite per provare a scurare il taunt totem a sto punto no no perché anche se scurare il taunt totem mi fa consacration non me la mette comunque il culo no adoro una bella sessione di sto ok ci vediamo dopo la lezione oh guarda che lo spunto ce l'ha sto mazzo eh il problema è andare oltre lo spunto perché lo spunto questo mazzo ce l'ha è gagliardo è gustoso magari non c'ha l'ital comunque noi potremmo andare a trovare magari cure dalla palude basta ragazzi troviamo tipo una come si chiama la spella 5 che fa un sacco di danni quella lì possiamo lupenarla secondo me con qualche culino in più questo mazzo potrebbe addirittura essere un tir 20 attualmente è un tir 21 spella 5 sei due 18 20 danni siamo due off regà regà ci credete o non ci credete certo che ci credete lava bors bello lava bors ok 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 chill 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 la gioia a 9 mana c'è un c'è qualche chi crash oh signore chi crash io devo si è fallita per il turno dopo no quindi devo io santo posso far danni a 4 mana no dai signori e signori attenzione perché nessuno ci credeva ma è là laddove nessuno ci credeva dove le gufate fatte a tal punto per avere il prossimo un premio gold a meno di top deck della seconda 4-2 che dà poi true silver cioè signori aspettiamo perché potremmo aver vinto incredibile mica se appena la parola sarebbe che fort'è questa carta questo va anche faccia ok 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 ci vediamo allora qua abbiamo anche possibilità di trovare airshock però inizierei comunque con lui tanto posso giocarle entrambe però 10 sì vabbè ma un disastro e sì signori per voi il big per shaman e la combina cazzo perdi mi dispiace tanto che hai perso grazie mille comunque per il supporto veramente mi dispiace tanto però sarà per la prossima volta ma vieni ma vieni ma vieni il big spazio come la mette nel culo a verdi attenzione ipocrita bisogna partire con drop decenti non sono troppo non sono troppo decenti anche perché il soffert il fulmini non lo posso kippar mai praticamente ma via via devono i missiles può essere buona in questo matchup oh caccia incredibile credibile vedo il primo drago che dà valore alla spella 3 il resto della mano è una cagata la scena arcane butcher devono i missiles comunque lo accetto zendolo di tiri ah devono i missiles mi piace il problema è che dobbiamo fare il low power al 2 però abbiamo la base lui ok un po' letto a carburà eeeh più 2 più 2 eh ma già mi dà valore per il devolving cazzo non mi devo assolutamente però forte allora qua il massimo potrebbe essere che lui tipo fa pezzo magari con valore non tratta il 5-6 perché non può farlo qua il 4 quello 1-1 lo tratti bravo cazzo è giustissimo cazzo perfetto così perlomeno non si fa il tredo sul tivo bravo bravo gioia bravo caro muy bien muy bien vashley vashley fa veramente schifo allora raga qua abbiamo subito l'idea cioè qua io devolving missiles mi sa che la devo giocare è poca roba eh però credo di doverla giocare prima di tutto per board secondo perché poi mi permette di ripartire con questo piuttosto che questo che potrebbe darmi un altro devolving missiles magari daremo prima 1-1 voglio fare tempo più su board non voglio non voglio outvaluare non voglio portare il massimo del valore al devolving sempre che magari poi non ce l'ha qua il peggiore è il 4-2 contro silver perché non mi permette di attaccare con 5-5 cioè in realtà potrei farlo ma devo giocare caccia d'urbine e vado in overload è una cosa che non mi piace tantissimo qua l'idea è voglio fare lui hero power penso proprio di sì così il turno 6 posso fare lei e spella 1 ancora devolving missiles questo è un buon dro visto che l'abbiamo giocato prima altrimenti avrebbe fatto un pochino schifo c'ho totem no ma li potrei avere quant'è gridi c'è regà scusate lui quando me lo tradda il totem lui non me lo tradda mai il totem non so se comunque ha valore una roba del genere perché comunque il turno 6 ce l'abbiamo c'è anche faccio questo al turno 6 no con 3 mana io che cazzo faccio nulla bisogna che prendo lo studio prendo lo studio stavando tutto ok giocata di valore importante comunque la prima spella 5 gli troppiamo Harrison Jones il mazzo pesca pure bello perché potrebbe giocarla anche adesso in realtà magari non lo dà lui per giocare intorno a devolving missiles no io dà lo stesso però l'ho dà dall'altro che forte è il bacino di mana un'altra dama secondo me è un po' troppo pesante cioè questa mi rimane su bordo però talnos mi fa pescare c'è abbiamo ancora l'arma rega dai cazzo bro che forte questa roba perché andai alla puttana sto giocando sto giocando forte del fatto che lui non abbia cons in mano cioè lui non penso abbia cons in mano cioè non penso che abbia cons nel deck non in mano che c'entra in mano e quindi sto giocando sotto quel punto di vista là che potrebbe dropparmi in 8-8 e lo tradiamo molto bene che scarogna però dai 3-9 a 2 mana 3 mana quella roba là quanto cazzo costa 3 mana 3-7 che cazzo di sfiga di merda io caro comunque il mazzo ripeto ancora sembra girare ed è ed è figo cazzo lo splashaman è troppo fio se lui non ha veramente consa cosa che penso lui ha dei problemi incredibili a contestare una board del genere è quasi impossibile praticamente perché la cosa più forte che può fare è fare un 8-8 con taunt e fa schifo oppure fanno i pescari carte che comunque è figo però mi darò spell damage la prime per esempio no però mi ha dato lega è disgraziatamente forte qua vado per qua vado per anni perfetto perfetto bene cazzo ottimo non ho trovato non ho trovato perfettamente nulla 2 mana o 1 mana anche se 1 mana aspetta damage non c'è un cazzo lui comunque credo che siamo in uno spot fortissimo ci abbiamo ancora valore cioè guardate che roba valore 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 che comunque non fa schifo e inoltre non so quantità di ciò se lui non mi mette taunt oh Bruno oh man sai quella roba lì segui le regole è molto più facile che tu buffi me che buffi lui la grandezza chi ama bro cioè io sono tentato di brutto reggeva sta roba fammi pensare no ma la voglio se va per dopo non abbiate paura del vostro costa poco tempo cristo santo no regge troppo gridi mi è stato barbaricamente 5 danni oh che croce no e 7 cristalli di mana ho missato il mondo ho missato perché sto pensando di farla combo con malicos doppia doppia doppio dardo e sarebbe stato piuttosto figo sarebbe stato molto divertente cazzo devo mettere questo c'è questo bastava che mettessi un pezzo i cinque anni missati non sono un problema però devo mettere un pezzo così il disco in realtà non sta indietro è una sorta di test è un test test di che è un test è un test per capire dove si può spingere un mazzo sono certo che comunque per le carte che c'è mamon non ha il valore necessario per vincere veramente tanto mana io è veramente tanto male sono andato cazzo i cazzi sono la tempesta della vostra sconfitta che peccato immaginate che stavolta c'avevo un 4-4 in più io guardate lo dirlo però in frattempo si fa si fa ghiacciante la cosa comunque buona è che poi posso giocare la vage lui e trovare cose fighe 2-4-5 posso giocare comunque lui cosa brutta che se prendo quel devolving non lo posso giocare quanti cazzo di vibra guarda che lui c'ha pure la spell a 8 no però vabbè qua la mia c'è il game comunque era vinto cioè se quel turno ci mettevo il pezzo e facciamo pure quei 5 danni era stravinto guarda che mi sono un po' rincoglionito cioè il bellino è andato in paz ah è vero la spell 8 che so la spell 8 è vero l'ha tirata con con la lura questo cambia tutto cambia tutto cambia tutto cambia il cazzo perché mi trovo da qua però la spell 8 l'ho trovata con la lura lui quanti anni c'ho sono 4 8 12 fatto bro ah perlomeno non mi sembra oh devo andare devo fare più los cioè devo fare ingerbit e prendevano più 2 spell damage e andava a 12 danni no o 14 c'è al massimo 15 non li vedevo mai mi pare doppia spell devo fare un 14 danni e c'ho due carte in mano c'è nel senso si vede perché? ah vuole che l'11 uno stacchi su board ora è l'ital no sono no cioè si sono 2 3 più 3 6 12 ciao c'ho già la prevesta poi se sono un uff adesso 5 più 4 9 12 15 Poia di puttana, troia Sono quindici danni Sono quattordici danni, cazzo E' quindici Fammi pensare Provo a dire che ti dà il cinque mano Eh, per forza Posso fare un caso Purtroppo non mi ha dato quello che volevo però Io volevo... Live in bot Dai, trattami l'1-1 con l'arma Non fare impezzente, dai Trattami l'1-1 con l'arma Bravo Che cazzo, dai S'ha rubato a sta partita Ok Sono la tempesta della vostra sconfitta Oh, va a faccia questo, sì Stavo sempre a un manofo per giocare lui, capito? Eh, sì Bella giocata Insomma Sono stato per i turni con un overload di 6, di 7 E praticamente un turno ho fatto un overload di 12 Se consideriamo che non ho giocato manco 6 cristalli di mana Ho fatto un turno con 12 di overload E 5 danni missati Bello però, un bel turno Un bel turno Non so se tu lo conosci oppure no Ma gli spacca i culi con il buratello bro C'ha le carte? Fanno parte Di un giochino in cui lui crea delirio e arte Ehi, giocheri sono altri...